Il mio casual è molto sportivo, anche essendo un maestro di tennis. Invece il mio stile, quando esco, è uno stile molto classico e semplice. Jeans o pantaloni, camicia, una camicia classica e un maglioncino. Mi piacciono anche molti colori, colori delicati, semplici. Però quando esco la sera, riesco ad essere un po' più sul classico. E niente, i vestiti che mi piacciono con gli hip hop, sono troppo larghi. Che sarebbe simpatico una cosa anche perché ti personalizzi, che dà una personalità a te stesso. Però, va bene. Nelle donne, mi piacciono cose attillate, tacchi, scarpe con i tacchi aperte, che si possono vedere bene ai piedi. E scollature, semplici, se la donna se lo può permettere. Insomma, vestiti molto sexy. Quello ha un genere. Oppure, molto fanciullesche, molto delicate, semplici. Sono due generi, mi piacciono, di vestiti nella donna. Semplici, nel senso, un po' alla francese. Molto struccate, i capelli legati su. Oppure anche la donna, molto sexy, molto sensuale, con i tacchi, tutta vestita provocante. Queste due cose. Grazie.